Il limone è uno dei miei ingredienti preferiti, oggi vi faccio vedere questi biscotti al doppio limone e io vi assicuro diventeranno i vostri preferiti. Partiamo dal lemon card, in una ciotola versiamo i tuorli d'uovo, lo zucchero semolato, la scorza grattugiata dei limoni, mi raccomando senza prendere la parte bianca, quindi fate attenzione se no sarà amara, aggiungiamo la vaniglia, mescoliamo bene con una frusta in modo da ottenere un composto piuttosto omogeneo come quello della crema pasticcera, ottenuto questa crema aggiungiamo il succo di limone caldo mi raccomando, non deve bollire ma deve essere caldo, sciogliamolo bene nel composto, adesso prendiamo un pentolino, versiamoci questo composto, mi raccomando pulite sempre bene la ciotola per non spiegare niente, adesso la cottura è molto importante, metteremo a fuoco medio, mescolate sempre continuamente con una spatola, il composto dovrà arrivare a circa 85 gradi se non avete il termometro, non lo dovete far bollire, vedrete che dopo un minuto belerà il cucchiaio, toglietelo subito dal fuoco, aggiungete il burro, il sale fino, sciogliete bene mescolando e vedrete che piano piano si abbasserà la temperatura e soprattutto diventerà lucidissimo, guardate questo, guardate il lemon card, guardate come è lucido, eccolo qua, questo è pronto, mettiamolo in una ciotolina, aggiungiamo la pellicola a contatto, mi raccomando in modo da non formare la pellicina secca sopra e lasciamo raffreddare, dopo il raffreddamento questo sarà il risultato, una crema golosissima senza farina e da un sapore estremo di limone, vi conquisterà, adesso prepariamo i biscotti, in una ciotola versiamo le uova, lo zucchero semolato, anche qui dobbiamo aggiungere la vaniglia e soprattutto importantissima la scorza dei limoni, anche in questo caso mi raccomando fate attenzione a non prendere la parte bianca perché è molto amara, aggiungiamo un pizzico di sale, lavoriamo con una frusta o con la spatola sapete la planetaria, circa un minuto, questo sarà il risultato, aggiungiamo in questo momento il succo di limone, lavoriamo sempre con la spatola, facciamo emulsionare i composti e vedrete che otteniamo un impasto, guardate come liscio e lucido, come questo qua e adesso è il momento di aggiungere ovviamente le polveri, quindi andiamo ad aggiungere la farina 00 e il lievito per dolci lavoriamo bene con la spatola o in planetaria, basterà circa un minuto, quello che otteniamo sarà una frolla molto morbida, guardate la consistenza non è come una classica frolla, è molto morbida, per questo dovremo coprire con la pellicola e farla riposare in frigorifero in modo che prenda la consistenza giusta e dopo riposo sarà sempre più morbida di una classica frolla, però sarà pronta da utilizzare con un chiaio per il gelato o un classico cucchiaio da minestra, porzionatela, passatela nello zucchero a velo, arrotolatela bene, guardate ricoprite tutto l'impasto, date una forma sferica con le mani ed ecco i nostri biscotti, guardate tutti ricoperti con lo zucchero, adesso mettiamoli su una teglia fotelata con carta da forno ben distanti, col tappo di una bottiglia ricaviamo un buco centrale, vedete? Farciamo con il lemon card, siate generosi e adesso la cottura. Dopo la cottura sfornate, lasciateli raffreddare e guardate i vostri biscotti al limone, saranno golosissimi, profumatissimi con un sapore estremo di limone. Un consiglio? Teneteli un'ora in frigorifero. Se vi è piaciuto questo video io vi ringrazio per averlo visto e mi raccomando iscrivetevi per non perdervi i successivi.